la gente sta prendendo un po' con una parte del bosco di bracciato sta prendendo fuoco il bosco di bracciato no 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 rimane dietro lanza dietro forse se vediamo in un incendio enorme non so quanto forse ne è per questo che c'era tutto il burgino quello che girava con le bombe dell'acqua con la sirena io non capivo perché penso da quante castardi quello è da più di un'ora due castardi questa è qui questa è qui è un po' di piante è un po' di piante non lo stai va piano, va piano vedete, no, la prima di che c'è il bambino è riuscito la strada è un po' di piante riuscito la strada è un po' di piante non lo stai Andalta Ancona, verso Ancona, quindi fuori proprio. No, no, perché qua c'è un incendio grande e è interrotta la strada. Ok, grazie. Porca miseria. Allunghiamo il mango del baco, perché abbiamo fatto tutti un lago. Ma sì, ma sì. Porca trocola. Siamo a metterlo il navigatore a questo punto. Siamo a metterlo a questo punto. No, puoi metterlo a questo punto. Porca miseria. Che macello. Ma hai visto che era dopo il camping nostro? Sì. Niente, un incendio veramente brutto. Speriamo bene che non ci ha successo niente a nessuno. Sì, sì, vanno andando fuori al bosco del lago. Guarda il fumo, là. Guarda l'alco, io non so se ne dico. Sì, sì, ancora viene oltre. Ma quello prima che lo spegnere, lo voglio. Sì, sì, sì. Guarda l'alco, io non so se ne dico. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.